li devi scommettere, autostima io non ne ho e tu? Io sì, devo dire che quella non mi manca a volte ho peccato di il contrario, di come si dice, il contrario di autostima essere egocentrico, essere troppo sicuri di sé, non lo so però secondo me bisogna averla l'autostima, non accontentatevi di non averla bisogna che te la costruisci, è importante di solito si tende a giudicare quando si è gelosi o di quella parte che sta in te e riversi negli altri, ma è anche una cosa normale giudicare gli altri è sbagliato, è brutto, bisognerebbe non farlo, però è normale, è una cosa umana non è che bisogna essere perfetti la mia autostima è pari a quella di un cricetto, ragazzi dovete trovare qualcosa in voi che vi piace è imperativo, non potete non avere niente di voi che vi piace cioè dovete convincervi voi che avete delle, e ce le avete perché chiunque ce le ha il solo fatto di essere nati, ok, e di avere la possibilità di vivere vi ha dato nel corso del tempo che avete vissuto una serie di abilità che voi non conoscete ma le avete voi sapete fare delle cose che magari vi sembrano stupide o avete dei lati della vostra personalità o della vostra mente delle skill che non conoscete, non vi siete resi conto di avere ma ce le avete, tutti voi dovete comprenderle, dovete dare soprattutto valore a ciò che avete grazie Pinto Tommaso per questi abbonamenti capito, dovete riuscire a trovare, e grazie anche Mickey per questi altri 5 abbonamenti grazie mille è importante perché così voi dando valore a ciò che avete gli altre persone che vi guardano capiranno che siete di valore proprio dal modo in cui voi vi ponete se voi invece vi ponete troppo umili no? come se non avete le persone percepiranno questa cosa e non è buono, capito? perché avranno un'opinione di voi peggiore perché voi avete un'opinione di voi stessi non buona è importante mi piacciono i miei occhi e basta solo perché sono verdi e tutti dicono che belli è perché sono bionda del resto nient'altro ma guarda, allora sicuramente hai anche altre cose ma queste due cose che hai detto sono già due cose molto belle secondo me quindi perché devi dire mi piacciono queste due cose come se fossero due stupidaggini, capito? sono due cose importanti Pinto, grazie ancora per altri 10 abbonamenti è gentile, è gentile chi vi riceve il regalo mi raccomando ringraziate, eh ragazzi chiede ai WGF se conoscono grazie a tutti